Romeno Violento, arrestato dalla squadra mobile per tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate in danno della moglie, separata di 33 anni. Le manette sono scattate per Nicola e Mustafà, 35 anni. I poliziotti hanno passato ai reggi X la vita dell'arrestato, come pure la vita della vittima, alla quale era stato affidato il figlio minore dopo la separazione avvenuta nel 2006. La vita della donna era caratterizzata da una impressionante sequenza di azioni vessatorie da parte dell'ex marito, consistenti in minacce, atti persecutori ed aggressioni fisiche, alcune delle quali finalizzate a destorcere la povera vittima anche ben 2000 euro in contanti. L'azione investigativa che ha portato all'arresto del Romeno dimostra come la polizia sia quotidianamente al fianco dei cittadini ed in particolare delle vittime e di tutte le donne che denunciano questi crimini odiosi che feriscono il corpo e l'anima di chi li subisce. Gli operatori di polizia della sezione specializzata della squadra mobile, coordinata dal dirigente Francesco Marino, constatano di volta in volta come gli episodi di violenza sulla persona sono spesso conseguenza della mancanza di una cultura del rispetto verso le donne a cui occorre richiamare con determinazione tutta la comunità per porre fine alle situazioni al limite e per stroncare sul nascere eventuali gravi conseguenze. Grazie a tutti.